E' giunta questa mattina al molo polisettoriale del porto di Taranto, nave costa favolosa con l'equipaggio in quarantena. 674 persone di varie nazionalità, prevalentemente indiani e filippini, sono 55 gli italiani. 30 persone hanno lievi sintomi e febbrili. Sarà l'autorità medica portuale, l'USMAF, a effettuare le verifiche del caso. Tutto l'equipaggio potrà sbarcare soltanto dopo aver superato i protocolli e l'occhei dell'USMAF, ma soltanto per rientrare nelle proprie abitazioni. Intanto il sindaco di Taranto ha fatto sapere che nessuno sbarcherà in città e non ci saranno ricoveri negli ospedali tarantini. E' stato il ministro dei trasporti, Paola De Micheli, a chiedere l'ormeggio di nave costa favolosa nel porto di Taranto, come ha sottolineato il presidente dell'autorità portuale, l'avvocato Sergio Prete. L'arrivo di questa nave discende anche da una serie di provvedimenti normativi che sono stati adottati per far rientrare in Italia tanto le navi battenti bandiera italiana, come quella della Costa Crociera, e soprattutto gli equipaggi che sono a bordo di quelle navi. E' appena arrivata la costa favolosa che ormeggia la testata del molo polisettoriale e non appena sarà possibile il personale della Sanità Marittima, che sta lavorando di concerto con la ASL di Taranto, farà una verifica a bordo insieme con il medico di bordo per testare soprattutto la situazione anche di queste circa 25 persone dell'equipaggio che presentano, è stato detto comunque, dei lievi sintomi febbrili e solo appunto quando il personale dell'equipaggio risulterà negativo ai test del protocollo sanitario adottato potranno lasciare la nave a bordo di mezzi messi a disposizione dalla costa per essere rimpatriati. Infine, da sottolineare che oggi è giunta a Taranto anche un'altra nave della flotta costa, vale a dire la fortuna, ma soltanto per operazioni di buncheraggio, presto lascerà la rada di Margrande.